Altra interessante puntata, quella andata in onda ieri sera di Agorà, il rotocalco settimanale di approfondimento giornalistico della nostra redazione si è occupato di sanità e soprattutto del rapporto tra chi ha gestito e gestisce la sanità a livello provinciale e questo territorio. Un rapporto da sempre sbilanciato a favore del capoluogo con la città più grande dell'intero ambito provinciale, trattata come l'ultima ruota del carro oppure come la periferia più dimenticata dell'impero. Un rapporto squilibrato che ha portato alcuni movimenti cittadini nati dal basso a coniare l'amaro slogan Gela fornisce ai malati e Caltanissetta i servizi sanitari. Uno slogan che in trasmissione ieri sera ha provato a smontare il nuovo direttore generale dell'ASP provinciale, Carmelo Iacono, il manager dell'azienda sanitaria della ex provincia di Caltanissetta, ospite di Agorà, ha portato i numeri del nuovo piano ospedaliero che punta al rilancio del nosocomio gelese del Vittorio Emanuele. Dati e numeri che però al momento stridono con i fatti reali e con i servizi offerti dal presidio ospedaliero di Via Palazzi. D'altronde lo stesso direttore generale Iacono dai microfoni di Agorà ha confermato alcune gravissime criticità che sono tuttora presenti al Vittorio Emanuele, una tra tutte, l'impianto di climatizzazione non funzionante da oltre dieci anni e che rappresenta una vera vergogna. Ma non è certo il solo problema che attanaglia la struttura sanitaria gelese. Affare da contraltare ai programmi ambiziosi voluti dal nuovo manager della sanità provinciale, l'elenco infinito di problemi snocciolato da un componente del governo cittadino, nella fattispecie l'assessore dell'aggiunta messinese Francesco Salinitro. Ad arricchire di presenze e contenuti il salotto televisivo di Agorà, anche il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, nonché presidente della commissione consigliare all'ambiente e alla sanità Virginia Farruggia, e poi la portavoce del comitato Gelenzi Spopulus Liliana Bellardita, ed ancora il neosegretario cittadino dell'Udc Salvatore Incardona e per finire il deputato regionale del PD, il gelese onorevole Giuseppe Rancio. Non è poi mancata la sferzante scheda di Giulio Cordaro dal titolo fuori dal coro che ha chiamato in causa ancora una volta la scarsa incisività di un governo regionale retto da un gelese e che finora non ha prodotto per questa città i frutti sperati, anzi. Chi volesse rivedere questa puntata di Agorà potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera su Canale 10, a partire dalle ore 21, oppure sui nostri indirizzi social, ossia il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10. Agorà tornerà in diretta venerdì prossimo, in prima serata con ospiti ed argomenti che come sempre riguardano Gela ed i gelesi.